possiamo anche metterli visto che ce l'è ancora vista delle gnocchette di polimax il vetro si infila e lo facciamo per combaciare allora aspetta tengo fermo che si muove questo che pure il nastro ok va all'incontro con lì lei è imboccata a post ok vai su con la manettina effettivamente come dici tu tirarlo su bello piazzato contro pressato quanto manca su pochissimo ok anche se non l'hai chiuso così sappiamo che non va in battuta lì ok questo spiffer ti metti un pezzo di nastro di carta se proprio non vuoi avere lo spiffer però almeno sappiamo che lì non va in battuta e non rischiamo che si appiccichi non tornare assolutamente indietro è a posto secondo me domani sei a posto ma tu dici che è molto tutto quanto non è il caso anche perché metti che c'è qualcosa che non ci quadra almeno non dobbiamo smontare tutto domani facciamo le prove del caso tira su tira giù tutto tranquillo allora bisognavi un nastro di carta giusto lassù ma non è un problema anche se c'è uno spifferino va bene io amo il vino molto più della birra si sconsiglia di avere minchia non l'ho mai detto non lo sapevo ma non è vero ho messo anche a raffreddare fuori il mirto stanno arrivando sono molto azzurri i loro parisi sono azzurri cioè ma non è vero che vanno sull'azzurro ma sono loro o sono altri no dai sono loro speriamo che continui a seguire la strada e non entri secondo me è entrato dove sei entrato tu l'altra volta no no salendo qua salendo qua salendo qua madonna anche i fari sopra sia sotto che sopra che madonna che ce li avessero sopra non lo sapevo madonna che c'è un impiantino lì niente male madonna si vedi Fede è tutto contento delle sue lampadine mi sa che non le prova ad osca qua è il lumina al giorno buongiorno e vai che sono arrivate anche le ultime della tribus ora mi chissica io ho fame qua abbiamo fatto l'abbraccio forza che abbiamo fame eh che ti devo dire più fortine buo il completo più o meno aspettando che questi hamburger cuocino stiamo ammurendo di fame guardiamo guardiamo ma di bruci no è gelata no proprio questa cosa qua doveva fare sposta allora gira tutti ma voleva fare un brandy si prende prima stessa ma che buono come non vuoi merda sta roba gira sta bene alle ascelle di Stefano alle ascelle di Stefano 30 minuti a me in serio comunque in siciliano al Dignuso al Dignuso al Dignuso al Dignuso al Dignuso poi di Dignuso non è una merda di Busca che controllo che lei non si avvicini alle cose dove fare tanti auguri a te tanti auguri a te grazie grazie tanti auguri a Stefano tanti auguri a te oh finalmente come ci si sente a 30 anni? a 30 anni ci si sente te lo dico subito tu non si fa sonno lento la luce del giorno è un momento per chi vuole capire capisco oggi è il compleanno di Stefano fa 30 annini con la tribù festeggiato con la tribù che ieri abbiamo festeggiato fino a mezzanotte l'uno abbiamo aspettato mezzanotte per festeggiarlo tranne Busca di merda tranne Busca che è andato a dormire Busca di merda è andato a dormire perché è una femminuccia mi sono impegnato le 5 e mezza vabbè dai ognuno fa che cosa vuole e oggi facciamo subito vedere che tempo fa quello di ieri è uguale quello di ieri è uguale con Carmen più amica oggi tribù proprio al complete Marco Fede e Sara Carmen e Elisabetta e Busca e manca Tommy e Alberto ed Erika un importantissimo Tommy e Alberto ed Erika adesso noi facciamo cola e poi ci sposteremo probabilmente in carovana tutti quanti per il mio cucciolino gli ho fatto la torta intanto che lui sclera ancora con i finestrini non dovrebbe funzionare quindi si è riusciti funziona? si molto bene si sarà un po' piegata il telaio e la lamiera la porta sporca di sangue la porta sporca di sangue dove? è vero anche sotto dove? la porta aggiustata perché mi sono fatto un po' di bibi qua comunque missione super compiuta e voilà finestrino che si abbassa finestrino che si alza benissimo dai no che schifo mi piace la romanzo lo sapendo ci stavo pensando quando l'ho visto no no non c'entra non c'entra non c'entra non c'entra non c'entra qua? no che posto? e come si chiama già? e cicoglio no? no orano orango orango no orango oh 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 ok loro se ne vanno Il tribù si disi riunisce Vabbè si separa Noi andiamo con Marco E loro tornano a casa La tribù che scende Tribù che va, tribù che viene Ok noi siamo arrivati Si conclude così La reunion della tribù Anche se non eravamo tutti purtroppo Difficile che riusciamo ad essere tutti 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 Però prima o poi riusciremo E niente Adesso mangiamo Volevamo andarci a prendere la pizza ma è chiusa Quindi niente Si mangia in casa